Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale. Mia sorella ha registrato un video senza che io lo sapessi di Fortnite, è arrivata a seconda, ma purtroppo l'audio della sua voce si sente, ma non troppo, perché è un po' coperto dall'audio di gioco. Ha praticamente registrato gli audio insieme e quindi non sapeva come registrarli separati. Mi dispiace, non si sentirà troppo alta la sua voce, ma comunque riuscirete a sentirla. Sono contento di arrivare a seconda e buona visione. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono la sorella di Skilt e lui non c'è, perché ho pensato bene di fare una partitina Fortnite e arrivare prima. Mi sono esercitato dall'ultima volta, in cui facevo skilt. Il campo da calcio, qui va in una cassa in mezzo al campo da calcio. Quindi tocchiamo il letto e non è più una camera da letto. Andiamo giù in questa voce. Dove? Dove? Di solito che c'è una cosa. Che è sta cosa? A volte c'è e a volte c'è. Ah, mi facciamo. Un altro pescino potabile. Wow. E ora ho fatto la mia traccia staccando tutto. E non sapendo che mi servono assolutamente sbrigarci, diamo un'ultima occhiata. Guarda qua. Buono così. Tanto è safe. Speriamo che abbiamo fatto questo, quindi, anche se veniamo di cucchiazza della tempesta, non di cucchiate, perché la troviamo anche qui. E poi lo abbiamo. Nazioni, ok. Ok, ora basta di distrazioni e ci troviamo sulla safe. Guarda qua. Sto attraversando il campo. Ma qualcuno l'ha aperta sta cassa. Beh, e uno come fa a non vedere una cassa in mezzo a un campo da calcio? Boh. Oppure l'unico. E dovevo chiedere. Ok, dobbiamo sbrigarci perché sta arrivando la tempesta. Ok. Siamo praticamente dentro. E adesso ci troviamo ad un bel cespuglio. Ecco. Questo qua dovrebbe essere dentro. Non so se ci trovere bene. Ok, sì. Abbastanza. Adesso vediamo. Però... Non è finito. Quindi... È meglio... Evitare. Sarebbe bellissimo se, tipo, su Fortnite aggiungessero che... Tipo, atterri in un punto. In una città o... E man mano che cammini, poi... Puoi andare a partita quando muori. O... Magari non muori perché arrivi prima. Ti dica dove... Tipo, tutta la sciglia. Da dove sei passato. Tanto siamo fuori di nuovo dalla safe. Perché la sfortuna... È... Incombe su di noi. Quindi... Di certo dopo non è. Pocchiamo le pietre in prima... Le materiali. Anche se ne abbiamo abbastanza, diciamo. Abbastanza per sopravvivere. Lì... Ha costruito qualcuno. Sperando che se ne sia già andato. Perché... Non vorrei... Una cassa. Siamo i 16. Mi ero dimenticata di... Di... Informarvi sul numero. 16. Uh... Top 10. Si avvicina. Si sbaglio. Ho visto qualcosa che si muoveva. Si. Ho visto qualcosa che si muoveva. E ora ne sono praticamente certi. Cecchinata. Top. Uh... Questo si sta costruendo. Pericoloso. Paura. È peggio di me stuizio. Però... Non si sta fermando. Non si sta fermando. Con la mammina. No, non si sta fermando. Allora... Oh la prima... Ok... Non si sta fermando. Allora... Ci ho presi. Attenzione... Non so che... Non so che... O se avete il mio primo di soppiatto. o costruiamo non abbiamo questo polvo ecco ci sta lanciando o raggio o giannate o giochinate o raggio non so analizzare i colpi anche lui ha giochino lui o lei ci manca poco per ucciderlo non so se abbia avuto qualcosa è morto prima kill oh mio dio quanto sono forte adesso abbiamo le bende abbiamo le bende quindi siamo anche curati altre bende viva ok se no abbiamo 10 bende mi sono appena accorta che le bende non si possono usare sopra 75 di vita quindi quindi fa niente dovrebbe essere dovremmo trovare una pozione non so se ho visto dei movimenti miei perché top 10 assicurata siamo in 9 dai quindi taglia così dopo poco scopriremo dove andrà la tempesta il cespuglio potrebbe oh gente che costruisce no non è che costruisce gente che ha già costruito questo cespuglio è perfetto 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 il tuo difetto è che siamo un pochino bassi però a me sta bene 8 siamo in 8 una kill 3 secondi 1 1 e scusami dov'è 6 siamo dentro al limite confine perfetto 7 siamo non ci troveranno mai questa la voglio vincere crudeli dobbiamo andare crudeli non crudeli quello tifoso del mirano io crudele siamo in 7 potremmo ignorare la gente è piccola non avevo notato che la safe era così piccola 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 morbidosa non è il momento di fare i carini e i cucolosi non è il momento adesso i cattivi e i minacciosi siamo vicino a pinnacoli pendenti intanto dobbiamo aspettare che la gente ci arrivi qui e vedere cosa potrebbe succedere tutto può accadere ma per scoprirlo bisogna vivere quindi 20 secondi e la tempesta inizierà comunque se arriviamo primi questo video sarà un video epico troppo epico non ho mai vinto ok la tempesta si sta riducendo aspettiamo e vediamo un po' ciò che succederà l'avrò già detto 3000 volte ma sono troppo felice di essere arrivata almeno sesta è una soddisfazione sapete quindi devo solo aspettare era detto un'altra volta ma niente tralacendo questo che sono solo dettagli quindi possiamo anche lasciarli perdere una kill dai buono 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 sperando che gente si faccia risucchiare dalla tempesta almeno top 5 potrebbe anche se secondo me la top 5 almeno potremmo aggiudicarcela perché alla fine se mi sei gente che si uccide a vicenda nessuno sa che io sono in un cespuglio magari tipo alcuna alcuni tizi sono anche loro nei cespugli e aspettano la gente la gente che arriva tipo in quello lì è successo quella con la 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 arriva l'airdrop non ci tengo a andarlo oh top 5 assicurata attenzione top 5 assicurata a un certo punto uh in 4 siamo attenzione siamo fuori dalla safe maledizione dovremmo provare a fare il giro largo e poi costruirci non so se usare il fortino portatile probabilmente lo userò non so l'effetto però lo userò perché mi sta salendo l'ansia in un modo che non avete idea gente che sta costruendo e probabilmente ci vorrà sparare no stanno sparando tra loro che roba è oh mio dio non so se sparagliono proviamo proviamo ancora a fare tanto dato che siamo in uno posto abbastanza in una conca siamo in tre siamo sul podio sul podio crudeli dobbiamo andare crudeli mi stimo e mi incoraggio quindi ok è il momento di entrare nella safe e trovare un bel cespuglio questo qua è dentro la safe non lo so no è fuori una azione non so se salire su sperando che nessuno ci veda qua non c'è un cespuglio ma che roba è dovete metterli i cespugli c'è la ecco questo qua è un cespuglio mi sembra strano che ci sia un cespuglio sul limite o c'è qualcosa non vedrò stanno sparando infatti siamo nella safe sì però ci stanno già sparando e probabilmente oh sbaglio non ho visto nulla però devo stare ecco se mi faccio già male da sola lì un cespuglio non cespuglio tanto ci vedono che entriamo in un cespuglio quindi non so se è molto utile perché magari hanno il cecchino e pretendono che stiamo fermi ma non lo so sono delle ipotesi che mi faccio nella mia testa caro senza analizzarle bene quindi quindi non fate caso a quello che sto dicendo no troppa ansia troppa ansia speriamo in bene respira 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 speriamo che la safe sarà a nostro favore l'ultima volta il problema è che abbiamo 90 di vita cioè non siamo così potenti adesso non userei il fortino portatile subito forse quando siamo in due ne abbiamo due ne abbiamo due quindi è buono però tanto gente gli fa proprio la scalinata siamo in due siamo in due no non ci credo non ci credo non ci credo allora rimarrò ferma qua tutto il tempo finché gente si avvicina perché questo qua dovrebbe no speriamo che la safe oh oh le pareva questo secondo me sarà da aspettare che noi usciamo forse è il caso di fare il fortino portatile nella safe di usarlo non so vabbè se costeggiamo la montagna siamo già dentro la safe potremmo anche usarlo sinceramente solo per provare magari però se lo facciamo così io non so proprio in che modo succederà cos'è magari qua senza infatti infatti vabbè così è rafforzatissima che bello mi piace troppo essere così al sicuro siamo in due questi ci verranno a cercare di sicuro che roba è questa qua poi la funzione della trappola piace nel senso che ho fatto una porta perché è meglio in caso di emergenza possiamo uscire la trappola qui tra un po' inizia la tempesta spero che questo tizio qua sia fuori però probabilmente non arriverò prima e se arriverò prima farò un casino totale non so se c'è beccati che siamo qua però però no perché non cioè non non so se da fuori si vede la porta o no probabilmente si non so ne sono quasi certa non lo so che fare sinceramente il fortino portatile ormai abbiamo fatto questo rafforzamento con la trappola cioè rafforzamento una trappola quindi nel caso che ci apra la porta non so cioè sinceramente non so neanche io cosa fare ma si restringe ancora la safe cioè ma che devo essere fuori vintemelo uffa maledizione qua ci sparano non so praticamente certo morto buonissimo buonissimo il video si conclude qua costringerò mio fratello eccolo cioè vabbè ma che posizione era cioè qua ti vedono tutti lasciamo perdere il video si conclude qua costringerò mio fratello ad editarlo e probabilmente nel prossimo video lo troverete e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Autore dei sorrisi